city report buongiorno da city report dove stiamo andando oggi tullio andiamo in un concessionario ma mi sa che auto non ne venderanno neanche elettriche oltre che quelle a benzina seguiteci city report se dal 2012 che chiusa sembra ancora abbastanza solida questo sarà un pezzo di una macchina penso che sia uno spoiler no è una sembra una maniglia della porta bene continua i topi sono velocissimi sono più gelosi di me e di paolo a fuggire quindi al birra moretti ha perso si si qui ha vinto tutte le altre birra ce la fai qui? si si è una giacca ci sono degli alimenti che sono stati buttati guarda questa dov'essere una coppa questa qui dov'essere una coppa un pezzo di formaggio e una melanzana anche qui guarda tutto cibo tutto buttato ho il latte dietro di te che sta uscendo un fratasso e dello spec dietro dello spec ah spec sembrerebbe roba anche lì un altro pezzo di coppa beh guarda si sono chiusi il go prendi le scritte chiaramente hanno come vedete qua c'è due posti letto hai ripreso anche qui di lato si quando siamo enterati riprendilo da qui che lo vedi meglio te ti ho aperto ti faccio luce vedete vedi che ci sono proprio i comodini questi che vivono qui non è un vecchio pernotto questo eh ti sembra un vecchio pernotto? assolutamente no guarda anche la furbizia di averlo occultato con le coperte per non farsi andare l'aria di notte anche la porta non ha il cardine appoggiato vuol dire che se uno entra lo sento e guarda qua cacciavite se qualcuno rompe le scatole o tirano giù gli danno una cacciativitata adesso io la richiudo qui perchè non voglio creare problemi qua tra l'altro c'è anche un documento tessera sanitaria di un signore dell'ottanta che si chiama Aleman Moriero mi è caduta aspetta che questi guanti sono per lavori un po' più pesanti gira ok ok adesso noi passiamo qui in mezzo alle cibaglie fammi andare avanti a me ragazzi non vi dico le mosche ci sono gli spiedini abbandonati qui eh i cagnotti dentro delle cose i vermi a Milano roba da pesca qua e qui non ci passa nessuno e vivi anche ancora eh sì certo che sono vivi guarda che qui qui la parte dietro vedi che se la sono legata con la corda eh guardate c'è anche i trolli eccetera qui siamo dall'altra parte guarda il pernotto lì prendi bene quel pernotto lì boh cari amici che dobbiamo dirvi questa è la vita a Milano disagi abitativi proprietà abbandonate sia pubbliche che private guarda la porta sangue quello lì eh sulla porta sul fianco alla porta guarda che roba manate di sangue proprio lo vedi? sì e qui siamo ritornati nello spiazzale del Redra Gesù confido in te ed ecco l'ex ufficio uno spettacolo eh ragazzi una roba incredibile raccogliamo il libro perché non glielo lasciamo richiudiamo perché la puzza è sempre incredibile facciamo una vista angolare guardate quella proprietà che vi abbiamo fatto vedere quella parte dell'autolavaggio arriva anche da questa parte arriva tutto in fondo guarda se vogliamo possiamo fare un giro di cola guarda oggi non ci facciamo mancare niente Paolo eh no guarda che mondeziaio c'è una discarica qui dentro non è un... guarda le piante qui è l'oro e questo è l'ingresso dalla parte opposta di dove prima con Paolo abbiamo guardato sapete cosa credo ragazzi? che qui organizzino anche qualche festicciola qui dentro perché guardate la carta d'identità del sudamericano guardate tutti la birra, i sacchetti di birra eccetera a me dà l'idea che sia un posto abusivo dove venire a ballare o comunque passare del tempo si portano magari una cassa e fanno la musica eh chiederò ai nostri contatti qua intorno cosa ne pensano cosa ne fanno e qui prosegue tutta discarica guarda guarda qua qui la Eniken ma stravinto eh Paolo mi hanno vinto con la Eniken qui eh non è una gara normale qui sono scritte dietro Giulio Lancia e Citroen beh certo era un concessionario questo qui c'è anche Audi di là anche Audi guardate tra l'altro è stata tagliata anche questa rete per passare di là io ci vado di là un attimo eh però prima mi dispiace per la natura però a me le spine ci hanno fastidio e andiamo a vedere cosa c'è di qua c'è anche di lì ha avanzato la rete si ho visto ho visto dico a quegli amici che mi hanno segnalato questa proprietà ve lo aspettavate che fosse così grande eh io dal sopralluogo notturno questo pezzo non lo avevo fatto era arrivato solo un po' oltre la metà beh insomma diciamo che qualcosa si potrebbe fare qui eh se non un pacchetto giochi quindi si potrebbe anche edificare qualcosa di utile alla collettività non le solite speculazioni cementizie di questi ultimi periodi e di qua c'è un altro ingresso sempre per questa mega tensostruttura vediamo com'è questa parte di qua questa secondo me è un po' che non la frequentano eh perché è piena di spine guarda aspetta che ti apro eh lo spazio qua vai grazie sono le spine c'è un tavolo da ping pong c'è una casetta un tavolo da ping pong casetta chiusa? no è aperta devo andare a vedere devo andare a vedere? allora fai due passini indietro o vai avanti cazzo aspetta aspetta ah 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 un altro pernotto aperta mi sono bloccata un altro pernotto questo è isolato rispetto agli altri perché di là c'hanno la bandiera del marocco quindi è possibile che di là siano marocchini magari qui o comunque non d'africani di qualche altra cosa sempre tanta puzza comunque questo deve essere un avanzo del passato un telefono della ma un telefono della Panasonic ma guarda qua Gran Vitara qua qui c'erano le grandi caramine e le nuove turbodiesel adesso invece ci sono gli occupanti abusivi e il tavolo da ping pong così ma come fanno ad avere tutti questi farmaci? guarda qua bombole del gas si un fornellino quello lì si e anche l'Eco Blue con ossido d'azoto non è il massimo da tenere uno vicino all'altro questa che sono? Amoxicillina e questa è soluzione orale macchietta di caffè vecchia si scarpe, borsette sono le borsette che mi lasciano un po' si borsette, marsupi si in effetti stramba sta roba qua è rimasta la divisione perché si vede che o sono due proprietà diverse utilizzate magari da chi ce l'aveva insieme ma poi dopo che è stata abbandonata l'attività secondo me hanno fatto un separe perché vedi questa roba è nuova ma questo l'ha fatto con il muro hai visto? non c'era il tendone di là ci sono le tende a dividere qua c'è proprio la muratura secondo me è un ampliamento vabbè qui c'è un altro vabbè c'è un sacco di schifezze riusciamo da questo posto è pieno di spiglie bottiglia di urina il presidente giardiniere ce la fai a passare o becchi i spineli? grazie sono attrezzato anche io con pantaloni vecchi e scarpe corazzate ha delle borse un carrello della spesa dei tappeti e si qui line che l'ha vinto di brutto quanto saremmo circa? 200? anche di più 200 bottiglie ci sono qua e sono tutte messe assieme in un sacchetto quindi vuol dire che sono state consumate consumate comunque in un breve periodo dalle stesse persone anche quelli dell'acqua ce ne sono tantissime eh perché chiaramente se sei abusivo a queste cose qui non è che ti metti a raccogliere i rifiuti degli altri quindi vuol dire che queste sono tutte consumazioni improprio vabbè per fortuna il sole ci arride va salutiamo l'amico Hermes e l'amico Diamond Frank che oggi hanno bigiato? no no l'ho chiamato io ce la facevamo benissimo ecco quante bottiglie anche qua sono tantissime vabbè beh c'è qualche c'è qualche Peroni e della Moretti in lattina ho visto e un'altra bottiglia di urine eh? la si non ci sono i bagni in molte zone di Milano vie commerciali eccetera vuoi che ci siano qua dentro? l'acqua levissima bevono tanto levissima bottiglie ma l'ombrella aperto porta sfortuna o? è mai fuori ah è fuori ok tante bottiglie proprio messe nei l'ho detto che secondo me facevano delle feste guarda pezzi di computer secondo me facevano feste lì dietro e qui nei pressi di questa casa che avete visto molto vissuta molto abitata abbiamo anche delle telecamere che non so a che cosa servono visto che non riprendono mai nulla a fianco alla torre telecom quindi questa è la torre telecom noi ci giriamo di spalle andiamo verso la strada del Sempione e ci troviamo appunto a questa struttura che vi abbiamo appena portato a vedere questo è perché ho preso la spina ho preso la spina e ho preso la spina e ho preso la spina pur che fa ridere che ci sia ancora una finta catena qua quando vedono che dentro è tutto pieno di immondizie e schifezze fa proprio un contrasto se guardiamo fa proprio un contrasto la torre e questa costruzione tutta diroccata e la scritta Allegri e per oggi da Sempione da questo ex concessionario auto siamo nel municipio 8 al confino tra Milano e Pero insieme a Paolo Rusconi la nuova attrezzatura vi salutiamo abbiamo vinto la Coppa anche stavolta del Degrado City Report City Rapport